YouTube va su YouTube che sto registrando no, per impedire è rotto un po' qui vicino al miniestro il grande trapano che c'è ormai senti, com'è il nome della ditta, scusi? Massimo Lattanzi no, ma che Massimo Lattanzi? La sua, la sua io non ho ditta io sto facendo multiservice stiamo facendo un lavoro per non fare un buco che non lo vuole fare lo sto facendo io prendi conto buona giornata a tutti lo sto facendo fare un buco, si rende conto? buona giornata